Il campione della pistola! Eccolo qui! Il clapperone ha annientato tutta la fottuta lobby! In questo video sono entrato in raid con solamente una pistola e sono estratto grosso come un ciaddone. Giocheremo la Shrimp, che è considerata una delle pistole più forti di Escape from Tarkov. E tu quale pensi sia la migliore? Scriverò nei commenti. Vi ricordo che questa Pistol2Hero è stata registrata interamente in lives e twitch, il link lo trovi in descrizione. Buona visione. La nostra Shrimp, di fiducia, non ci delude mai. Da quando sto giocando la Shrimp, ragazzi, mi sembro dopato, anzi. Partiamo! La Pistol2Hero! Riuscirà il nostro campione a portare fuori il loot dei ciaddoni. Concentrazione. Stiamo entrando in una zona di guerra. Get fucking fucked! Sei stato distrutto! Oh yeah! Ok, va beh. Mi sono uscito, tanto è uguale. Ancora peggio, guarda qua. Quell'arma così stavo. Cioè, sembravo praticamente diventato spastico. Avevo un attacco di, non lo so, di... Oh no, oh no, oh no. Gli scav sono arrivati con me. Ho fatto infuriare il campo degli scav. Credo che l'abbia fatto lo scav. No, ci sono scav. Oh fuck. Ehi scav, vieni qui. Get fucked, bitch. I cracker. Oh sì. Vediamo cos'ha questo tizio qui. Oh, vedi? Finalmente uno scav professionistico. Voglio andare a vedere che cosa aveva il BMC qui. Eccolo qui. Oh sì. Livello 45 con il suo WPO. E IAP? Beh, questo non è male. Non so da dove stessero sparando, però credo che... Oh porca puttana di Buddha! Mi hai fatto prendere quasi un infarto. Porca miseria. Ma ti sembra normale che resti fermo lì a fissarti per ore? Ehm, let me down. Ok, i mag sono pieni. Vediamo cosa c'è dentro. Questo AK-104. Mi sembra anche abbastanza professionistico, quindi... Ok. Ehi, permesso. Salve. Fuck. Fuck. Beh, non ho la più pallida idea di che... Cioè, esattamente come faceva a vedermi, non lo so. Perché la testa sua non la vedevo. Altro giro, altra corsa. Via! Arriva lo scav, arriva lo scav. Eccolo qui. Grazie scav. Oh, guarda, un'armatura addirittura. Ormai sembrava un miraggio, invece... Altro pistolettario. Oh, fuck. Due pistolettari. Andiamo a dimostrare chi ha la pistola più forte. Aha! Fattuto! Gorilla. Gorilla rovente. Ah, è proprio lui! Il signor gorilla rovente! E c'è anche Don Bass qui. Oh, dobbiamo stare attenti. Ho percepito dei movimenti. Dobbiamo stare molto attenti. Potrebbe attaccarci il soffiatto. What? Ok. Ho visto. No! Fuck, mi ha visto anche lui. Pensavo di riuscire a fare in tempo a tappargli la testa, invece no. Non importa, abbiamo portato a casa Gorilla rovente. È tutto quello che ci serviva. Aha! Distrutto! Sì! Il tuo MCX. A questo piaceva il pilastro. Sì, ha fatto un bel po' di buchi sul pilastro, è vero. Che colpi ha questa? È il Luger, è vero. Vabbè, dai, non è male. Non so dove fucking siano, ma... I will find you. And I will kill you. Ahahahah! Fucile a pompa. Bastardo. Via, via, via dal cazzo. Via dal cazzo. Mettiamoci qua, così ci arrivano gli scav a pushare. E li facciamo a trap. Oh, oh, oh. Ah, vai. Oh! Oh my god! Siete stati fottutamente distrutti! Oh yes! Celebros! Proprio lui! Ma delle cure di merda non ce l'hai? No, eh. Torniamo un attimo i gol. Oh fuck! Lo scav mi ha tancato. Vieni qua, stronzo di uno scav. È livello 3. Oh oh oh! A casa, stronzo! Ahahahah! Che cazzo pensavi di fare, eh? Oh fuck. Credo che sia un PMC che ha appena fatto taggilla, sapete? Distrutto! Il campione della pistola! Eccolo qui! Il clapperone ha annientato tutta la fottuta lobby. E mi ha anche fatto taggilla, questo stronzo. Ahahahah! 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 Prendiamoci la strandog, ma così direttamente. Ma che ci frega. Andiamo a salutare l'altro PMC e ce ne vediamo dal cazzo, dai. Ahahah! Eccolo qui! Convinto lui, eh, di stare tranquillo. Invece guarda qua, signor Glenn. Vieni con me. Oh, guarda che bello zaino grosso che hai. Grazie mille. Ahahah! Ah, fantastico! Pistol to hero! 4 PMC kill! Beh, questo raid è stato spettacolare, devo dire. Spettacolare, veramente. Ehi! Iscriviti al canale, mi raccomando. Lascia un like e commenta con la tua pistola preferita. A proposito, qui è un video che credo possa interessarti. Do dei consigli su come divertirsi sui schede frontarcov. Non puoi perderlo.